Sarebbe crollata la grada del parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Un uomo sarebbe precipitato per ben 13 metri prima di raggiungere il suono. Sarebbe un 54enne che sarebbe stato trasportato in condizioni piuttosto gravi nel medesimo nosocomio milanese. L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 22.30 di ieri 5 luglio 2019. L'uomo sarebbe caduto su una grada saldata su un'altra. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita stanno a quello che è riportato sul web di oggi, 6 luglio, però ha riportato diverse fratture tra cui quella del bacino ma anche delle capiglie. Grazie per l'ascolto il bio termina qua un saluto cara al prossimo bio narratore italiano.